Grazie a tutti. Sì, questo tunnel, questo luogo secondo me veramente è fatato anche perché ha dimostrato ulteriori qualità oltre alla bellezza e alla suggestione del posto ha dimostrato questa qualità acustica che appunto ha convinto il gruppo Ziba e gli Alma Libre a sceglierlo come location per la registrazione di questo disco bellissimo che appunto non lo dico io soltanto ma lo dice il club Tenko che appunto gli ha riconosciuto il premio come miglior disco del mondo. Poi oltre a questo come dicevamo la settimana continuerà con altre iniziative importanti. Finiamo appunto con la presenza al taglio della torta di Rocco Papaleo che ha voluto onorarci la sua presenza anche lui innamorato di questa struttura per passare attraverso Roberto Mancini, Francesco D'Adamo. È un incontro di box letteraria, se vogliamo, impostata sul libro forse più bistrattato ma anche di cui si è più parlato in questa estate, quel famoso 50 sfumature di grigio che appunto ha destato tanti giudizi contrastanti. Stiamo qui presentando i festeggiamenti per il primo quinquennio di vita di questa biblioteca, di questa magnifica iniziativa perché forse chiamarla solo biblioteca è limitativo che è stata costituita e costruita qui a moglie di Maiolati e anche con l'appoggio della Banca Popolare di Ancona ne siamo estremamente soddisfatti perché crediamo che oltre al giusto riconoscimento a chi la gestisce, a chi ha portato avanti questa idea, sia anche importante che la cultura mantenga anche in questi periodi di grosse difficoltà economiche, mantenga una presenza sul territorio in modo tale che anche i momenti meno felici della nostra esistenza possono essere confortati da un incontro, da un libro, da una qualsiasi manifestazione che ci fa non solo dimenticare qualche cosa ma anche pensare ad un futuro che sicuramente può essere migliore. È sicuramente una delle migliori soddisfazioni di questi due mandati come sindaco, questa e la scuola che abbiamo appena inaugurato ma anche tante altre. La soddisfazione la dimostra anche quanto ci scambiavamo prima con il presidente Mariotti e con l'assessore che sembrava fossero passati più di cinque anni, tante sono le iniziative, tanti sono i numeri, tanti sono i riscontri che riceviamo continuamente dall'intero territorio. È sicuramente una grossa soddisfazione e soprattutto uno stimolo ad andare avanti nelle crescenti difficoltà.